29 novembre 2018, giovedì, bentornati su CiperTV, il vuo di oggi è Cindy, 20 minuti unwrap, 5 pull up, 10 push up, 15 squat, ma attenzione non tutti faranno la stessa cosa, infatti gli advanced faranno invece Mary. Per tutte le informazioni c'è la grafica qui di fianco, seguiteci su Instagram, ci sentiamo domani per l'ultima puntata della settimana.